Non sento. Torniamo a parlare dell'omicidio accaduto in strada a Bitritto. È stato infatti scarcerato il titolare del bar indagato per la morte del 27enne Giovanni Palazzotto avvenuta all'esterno del suo locale. La GIP ha motivato la decisione definendo la morte del giovane come un atto non imputabile alla volontà dell'indagato. È stato scarcerato Francesco Assunto, il 31enne titolare del bar di Bitritto accusato della morte del 27enne Giovanni Palazzotto avvenuta all'alba di domenica mattina di fronte al bar gestito proprio da Assunto. La morte non sarebbe imputabile a un atto volontario dell'indagato. Con queste motivazioni la GIP del Tribunale di Bari Antonella Cafagna non convalidando quindi l'arresto in flagranza ha disposto la scarcerazione dell'uomo. Il fatto di aver immobilizzato la vittima fino a soffocarla secondo la procura sarebbe stato un comportamento di assoluta eccezionalità, qualificabile al massimo come eccesso colposo nella legittima difesa. All'alba di domenica infatti Palazzotto avrebbe tentato di entrare nel bar di Assunto urlando e scalciando. A questo punto il barista lo avrebbe bloccato a terra per impedirgli l'accesso, mettendogli le ginocchia sul torace per 16 minuti. Le risultanze probatorie, ha scritto la GIP con rinferimento alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e le dichiarazioni dei testimoni, denotano la completa assenza di indici sintomatici della volontà dell'indagato di cagionare la morte della persona o anche solo l'accettazione di essa come rischio connesso alla propria azione costrittiva, per contro sorretta sin dai primi istanti dalla finalità difensiva e dall'intento di attendere l'intervento delle forze dell'ordine. Nelle scorse ore è stata eseguita l'autopsia sul corpo della vittima, i cui primi esiti, secondo alcune fonti, confermerebbero i segni di asfissia compatibili con le manovre invece descritti dal PM. Per arrivare a una conclusione definitiva sulle cause della morte però sarà necessario attendere gli esiti di ulteriori approfondimenti tossicologici e istologici. Avrebbe gestito in maniera monopolistica la piazza di spaccio di Terlizzi e zone limitrofe, per questo sequestro di beni a Gian Battista Desario già in carcere per lo stesso reato. Una confisca di beni immobili del valore di 300 mila euro consistente in una villa lussuosa, un deposito e un fondo rustico è stata eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Bari a carico di Gian Battista Desario, ritenuto al vertice del clan dello russo, indagato per aver promosso e diretto un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti operanti su Terlizzi e zone limitrofe. Secondo le indagini l'associazione avrebbe gestito in maniera monopolistica la piazza di spaccio di Terlizzi, reati per cui recentemente Desario è stato già condannato in primo grado a 20 anni di reclusione dal Tribunale di Bari. Il provvedimento di confisca è il risultato di una proposta della DDA della Procura di Bari, formulata in base ad accertamenti che hanno ricostruito l'intera carriera criminale di Desario, con una ricchezza accumulata negli ultimi 20 anni grazie al traffico di droga. A Biceglie con l'accusa di estorsione è stato arrestato un minorenne, avrebbe puntato una pistola a un ragazzo chiedendogli in cambio 1500 euro. Finisce in manette un sedicenne che avrebbe puntato una pistola contro un ragazzo chiedendogli 1500 euro. È accaduto a Biceglie dove il ragazzo avrebbe minacciato anche di morte la sua vittima per una questione legata all'acquisto di un certo quantitativo di stupefacente che l'arrestato avrebbe dovuto recapitare al giovane. Lo stesso però avrebbe denunciato il fatto ai carabinieri che si sono recati il pomeriggio successivo nel luogo dove la Guzzino aspettava il ragazzo per la consegna del denaro. Da 50 euro era passato a 1500 euro di richiesta. Sul luogo dell'appuntamento però il giovane a Guzzino si è presentato in compagnia e con lo scopo di intimorire ulteriormente la vittima ha impugnato una pistola giocattolo priva di tappo rosso esplodendo un colpo in aria. I carabinieri sono così intervenuti tempestivamente riuscendo a bloccare i soggetti. Il minorenne di nazionalità tunisina è stato arrestato e dovrà rispondere oltre che di tentata estorsione anche di porto in luogo pubblico di arma giocattolo priva di tappo rosso nonché di spaccio di sostanze stupefacenti. Un 56enne di Palagiano nel Tarantino pregiudicato è stato arrestato per reati di violenza sessuale consumata ai danni di un minore. L'indagine è partita dopo la denuncia della madre della giovane vittima ed è proseguita con l'ascolto di quest'ultima con il supporto di uno psicologo. Secondo le indagini gli episodi di violenza sarebbero cominciati la scorsa estate. L'indagato residente nello stesso condominio della vittima avrebbe cercato di far compiere al giovane atti sessuali contro la sua volontà. Inoltre è paventata anche l'ipotesi di una violenza consumatasi nei primi giorni di novembre quando il minore dopo essere stato attirato con una scusa a entrare nell'abitazione dell'indagato sarebbe stato palpeggiato. In quell'occasione il giovane è riuscito a scattare col suo cellulare una fotografia dell'uomo ritratto in atteggiamenti inequivocabili. Proseguiamo ancora con la cronaca scontri dopo la gara Nardò-Nocerina. Arrestate due persone e denunciate una terza. Sono tutti campani. Scattano i primi provvedimenti in seguito agli scontri avvenuti domenica scorsa a Nardò a termine gara contro il Nocerina tra una frangia della tifoseria locale e i sostenitori ospiti. Sarebbero stati arrestati due ultracampani e una terza persona fermata, un minorenne, denunciato a piede libero. Durante gli scontri avvenuti al termine della gara, 12 agenti di polizia in servizio d'ordine avrebbero riportato ferite e contusioni. I tre sono stati individuati attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza e per loro scatterà il DASPO. La polizia è ora sulle tracce di altri tre soggetti, anche questi tifosi della Nocerina, mentre sono in corso accertamenti per identificare altre persone coinvolte nella vicenda. I fatti risalgono a domenica 20 novembre, quando a termine gara, finiti in pareggio, sono iniziati gli scontri. Con volti coperti e armati di mazze, i tifosi avrebbero continuato nelle provocazioni, causando da parte dei tifosi della Nocerina lo sfondamento dei cancelli del settore ospiti. I poliziotti erano riusciti ad impedire il contatto fra le tifoserie, ma gli ultras della Nocerina hanno iniziato a lanciare oggetti di ogni genere. Sulla vicenda, le questure di Lecce e Salerno stanno svolgendo quegli approfondimenti investigativi che hanno portato ai due fermi e alla denuncia di tre campani come prima risposta agli episodi di violenza. E torniamo ad occuparci della vicenda che coinvolge il parlamentare Abubakar Sumahoro. Dopo Don Pupilla, direttore della Caritas di Sansevero, parla il segretario di Flai, CGL Foggia. Partiti politici avvisati, ma dovevano approfondire prima di candidarlo. Sono state le sue parole, ma vediamo il servizio. Una vicenda delicata che si sviluppa sul piano sia giudiziario che politico. Il deputato Abubakar Sumahoro è al centro del dibattito nazionale. Da una parte l'inchiesta della Procura di Latina, che vede coinvolte compagni e suocera per irregolarità e malversazioni di erogazioni pubbliche nella gestione di cooperative di accoglienza. Dall'altra il sospetto che Sinistra Italiana e Verdi non abbiano ben valutato chi fosse davvero l'ex sindacalista, che però in lacrime ha difeso sui social la sua integrità morale. A sollevare dubbi sull'operato dell'ora parlamentare, prima i suoi stessi collaboratori, poi il direttore della Caritas di Sansevero, Don Andrea Pupilla, ora anche la Flai CGL, che si esprime sulle due facce della vicenda, giudiziaria e politica. Rispetto all'attività dei familiari e delle cooperative legate alla famiglia di Abubakar è l'idea di quella che arriva dai giornali, quindi noi non abbiamo notizie in merito. Rispetto alla figura di Sumahoro, oggi parlamentare? È una scelta di una forza politica di sinistra che probabilmente doveva, come gli è stato anche suggerito, doveva approfondire meglio le informazioni prima di candidarlo, secondo il nostro punto di vista, non per la condizione della famiglia, ma proprio per l'attività politica e sindacale di Sumahoro. Attività sindacale che per la CGL è una lotta storica in difesa dei migranti, per la Puglia, nel Foggiano soprattutto, dove il ghetto di Borgo Mezzanone grida ancora degrado, dolore, abbandono e assenza dello Stato. Borgo Mezzanone oggi è l'insediamento spontaneo più grande del Foggiano. Arriva a ospitare anche 2.000 persone nei periodi di massima accoglienza. È un insediamento che deve essere superato. Oggi fortunatamente abbiamo le risorse del PNRR che proprio il Comune di Manfredonia ha ricevuto la somma più importante, oltre 50 milioni di euro, proprio per superare anche quell'insediamento. Siamo, come dire, pronti a collaborare affinché quel luogo sparisca dalla cartina geografica e venga sostituito contemporaneamente da una condizione di accoglienza migliore, di integrazione degna di un paese civile come l'Italia. Voltiamo pagina. La Regione Puglia ha acceso un faro sulla situazione sanitaria nelle carceri. Lo ha fatto attraverso un tavolo tecnico che è tornato a riunirsi. Sentiamo cosa è emerso. È tornato a riunirsi il tavolo tecnico sul tema della salute all'interno delle carceri pugliesi. Tante le questioni affrontate a partire dalla carenza di personale medico e infermieristico. Nel carcere di Lucera, per esempio, l'assistenza psichiatrica si riduce a sole due ore settimanali. L'assessore regionale alla sanità, Rocco Palese, ha riferito al tavolo della recente deliberazione dell'ASL Bari sui lavori di ristrutturazione del reparto di medicina protetta all'interno dell'ospedale San Paolo, della realizzazione di una nuova REMS, di un progetto di fattibilità in corso per digitalizzare gli istituti penitenziari per consentire prestazioni a distanza come elettrocardiogrammi, analisi, ecografie e radiografie. La presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone, inoltre, si è impegnata a farsi promotrice al Ministero della Giustizia delle iniziative necessarie a sollecitare risorse finanziarie per l'edilizia giudiziaria e penitenziaria pugliese. Nel PNR, infatti, 58 sono gli interventi previsti per un totale di 540 milioni di euro, ma la Puglia non c'è. Un problema grave è quello dell'assistenza sanitaria nelle carceri. Purtroppo tanti suicidi, molti dei quali affoggia, è una difficoltà a trovare psichiatri e personale sanitario che possa stare all'interno delle carceri per provvedere alla cura. E questo è il tema fondamentale di oggi. Abbiamo riflettuto insieme all'assessore sulle possibili soluzioni. L'assessore ha assunto degli impegni e io gli sono grata perché non possiamo assistere in ermi di fronte alle necessità. L'evoluzione sarà sicuramente con la digitalizzazione, perché tra il fascicolo sanitario delle persone che sono in regime restrittivo e anche l'avvio di altre tecnologie possono consentire una facilitazione dell'assistenza perché le carenze sono tante, mancano psichiatrici, però mancano anche medici, operatori e quant'altro, cioè che sono molto riduttanti ad andare a lavorare all'interno delle carceri. La sanità dalla pandemia all'endemia senza però dimenticare gli strascichi del long Covid-19. Da Arezzo per noi Massimiliano Sisto. La sanità di oggi e di domani. Questo è il claim del Forum Risk Management di Arezzo. Ben ritrovati. Ma qui in fiera c'è anche il secondo congresso Siems per la medicina di emergenza. L'occasione per guardare anche nello specchietto retrovisore, perché salute vuol dire non dimenticare l'emergenza Covid-19. E noi abbiamo intercettato due degli opinion leader più importanti sul tema. Sicuramente c'è una naturale propensione a cercare di dimenticare ciò che è stato e forse anche di non ricordare quelli che sono stati i momenti più tristi, che sono stati vissuti in realtà in modo diverso anche nella nostra Italia rispetto alla mia Lombardia, rispetto ad altre regioni. Però effettivamente c'è una eccessiva tendenza a una normalizzazione. È naturale, ribadisco, ma siamo in una fase difficile di transizione tra quella che è stata la pandemia vera e propria e quella che potremmo considerare un'endemia. Ma dire endemia non vuol dire aver lasciato tutto alle spalle. Il Covid non è finito, rimane da noi piuttosto altamente endemico, nel senso che purtroppo non abbiamo i dati di tutti i giorni, ma alla fine della settimana contiamo decine di migliaia di casi e centinaia di morti. Di questo passo ne avremo tra i 30.000 e i 40.000 all'anno, che sono una strage silenziosa. È un po' tutta la civiltà occidentale che si è stancata del Covid e cerca di rimuoverlo. Però il compito dei governi non è quello di rimuovere, è quello di cercare soluzioni. In questo momento soltanto alcuni governi lo stanno facendo, il governo giapponese lo sta facendo. Se noi ci trovassimo in Giappone in questo momento avremmo tutte le mascherine, oltre che saremmo tutti vaccinati, cioè nel senso che la quarta dose lì ha avuto delle coperture enormi. Il nostro paese purtroppo sulle quarte dosi è l'ultimo in questo momento, cioè non c'è un'attenzione, così come vedete l'uso delle mascherine ormai è completamente dimenticato. Sono errori che sono in qualche modo comprensibili nei confronti della psicologia di massa, ma che sono sbagliati nei confronti del virus. Ora siamo appunto in una fase difficile perché non c'è più la stringenza dell'obbligo delle mascherine, ma perché non usarle in alcune situazioni. Per esempio, come facevano anche i turisti orientali, indossarle nel momento in cui si ha una manifestazione respiratoria, che non è solo Covid, perché quest'anno stiamo vedendo e stiamo assistendo a una risalita dei casi Covid, ma anche della classica influenza, che non è banale, perché a volte per ridurre l'impatto del Covid si dice che è solo un'influenza, ma anche l'influenza fa i suoi morti. Ancora a Sanitale, criticità del 118 della medicina d'urgenza sul tavolo della Siems. Durante il secondo congresso nazionale abbiamo ascoltato le parole di due protagonisti del nostro territorio. Per la pandemia abbiamo dovuto riposizionarci, rifare una pianificazione complessa, con tutti i problemi che sono stati sotto gli occhi di tutti. Siamo riusciti anche con le forze che non sono state implementate a dare una risposta ai cittadini, o almeno speriamo di averlo fatto al meglio. Si spera definitivamente nella normalità, una normalità che però ci vede obberati di soccorso. Le priorità in questo momento sono soprattutto un'integrazione di risorse, che rappresenta il problema più importante in questo momento, la carenza sul territorio di medici soprattutto, ma anche di infermieri. Questo in entrambe le ASL, siamo ad esempio sulla BAT con quasi la metà dei medici con cui siamo partiti. La situazione del 118 rispecchia un po' la situazione di tutta la sanità nazionale. Anche nel 118 mancano i soldati. Vuoi perché un sistema di emergenza sanitaria territoriale non può essere portato avanti per tutta la vita, da professionisti perché l'attività è fatta al di fuori dell'ospedale, con una grossa componente che è quella dell'informazione al cittadino sul buon utilizzo del sistema di emergenza, perché ci sono troppe chiamate assolutamente incongrue e non da 118. Da anni penso che la prima cosa che sia mancata quando il nostro sistema ha deputato nella regione Puglia è stata proprio l'informazione all'utenza, cioè quando attivare il sistema di emergenza. In una regione in cui noi non abbiamo attive ancora un 116, 117 e una CUR che ci avrebbe fatto da filtro, sulle centrali 118 abbiamo un numero di chiamate molto elevato e solo sul 30% di queste noi poi attiviamo il mezzo di soccorso. Quindi è estremamente importante questa azione di filtro e di educazione al cittadino alla richiesta di un sistema di emergenza estremamente importante per il territorio. Andiamo in Basilicata di Consum. Feder Consumatori contestano un regolamento che l'amministrazione comunale di Matera si appresta ad adottare sulle aree PIP. Un regolamento che colpisce l'economia già fragile di circa un migliaio di cittadini con famiglie i quali potrebbero ritrovarsi a lasciare ai loro figli i debiti che oscillerebbero intorno ai 20.000 euro. Così Feder Consumatoria di Consum stigmatizzano l'ultimo provvedimento in cantiere dell'amministrazione comunale di Matera che verte sulle aree PIP della città. Una norma che negli intenti è finalizzata alla cessione in proprietà ai cittadini delle aree concesse in diritto di superficie e alla rimozione del prezzo massimo di cessione del canone massimo di locazione per le aree concesse sia in diritto di superficie sia in diritto di proprietà. Ciò che l'amministrazione comunale si appresta ad approvare, dicono i due sodalizi, incontra il nostro giudizio negativo. Siamo stati ascoltati di recente dalla Commissione Consigliare del Patrimonio e dai dirigenti, dicono, ma scarso se non nullo è stato il riscontro. Il regolamento, chiudono, è stato redatto nelle loro stanze senza essere condiviso con la popolazione e con le associazioni dei consumatori. Perché esprimete un giudizio negativo sul regolamento predisposto dall'amministrazione comunale per la rimozione del prezzo e del canone massimo di cessione riguardante l'area del PEP? Intanto la simulazione dei calcoli che noi abbiamo visto sono errati per quanto riguarda, in particolar modo, il PEP di San Giacomo, quelli con diritto di proprietà, perché non viene applicata una legge dello Stato, la 448 del 98, articolo 31,48, dove dice testualmente che il corrispettivo dovuto è pari al 60%, non al 100%. Inoltre, all'articolo 49 bis, parla pure della riduzione degli anni della convenzione. Quindi, se una convenzione dura 30 anni, ne sono passati i vendi, si devono pagare solo 10 anni di vingoli e non tutta la quota. Mentre il Comune non riconosce, per quanto riguarda i PEP, tutti i PEP di Matera, con diritti di proprietà, che hanno costruito negli anni Ottanta, perché loro affermano che sono vingoli perpetui, mentre la Corte Costituzionale ha sancito che non sono perpetui questi vingoli. L'ha destato scalpore nei cittadini l'abbattimento di una piccola pineta all'interno dell'ospedale pediatrico di Bari. In tanti hanno postato sui social le fotografie scattate dai palazzi vicini, nelle quali si vedono le operazioni di abbattimento. I cittadini della zona temono che si sia trattato di un'operazione legata all'allargamento del parcheggio. Dalla direzione dell'ospedale fanno sapere che l'intervento rientra in un progetto di riqualificazione della zona, ma soprattutto che gli abbattimenti sono la conseguenza di due relazioni con due diversi agronomi che hanno ritenuto quegli alberi malati e pericolosi. La zona sarà comunque risistemata in gran parte a verde e saranno piantati nuovi giovani alberi. Ora la pagina dedicata alla cultura, dall'idea di due librai di Mola di Bari e dalla collaborazione con i maggiori autori, editori di letteratura per ragazzi e con le librerie indipendenti del territorio pugliese, è nata a Mola di Bari l'iniziativa Libri Aperti. Attività in programma fino a sabato. Si chiama Libri Aperti, non è una rassegna, ma uno spazio di confronto fra le librerie pugliesi e un gruppo di autori ed editori indipendenti. Grazie al sostegno del comune di Mola di Bari, l'idea, nata dalla passione dei libraide per fare un libro, è diventata realtà. Fino a sabato, incontri con autori, laboratori e spettacoli nei locali pista adiacenti l'arena Castello di Mola di Bari. Abbiamo realizzato uno dei nostri sogni, che è quello di questa rassegna, che è composta principalmente da incontri con autori per ragazzi e spettacoli e laboratori creativi per bambini nel pomeriggio. Quindi il mattino tutte le attività con gli autori si svolgeranno negli istituti scolastici del territorio barese. Nel pomeriggio invece qui ai locali di Pissa, adiacenti all'arena Castello di Mola di Bari, laboratori creativi per i bambini di tutta l'età, ma non solo, ma anche per le loro famiglie e genitori. Per noi autori, per esempio di Bucconatri, è veramente un motivo che ci spinge sempre di più a raccontare le storie. È bello anche essere stati intervistati per il podcast da Giorgia e Elena, due ragazze fantastiche, grandi lettrici, lettrici forti, che davvero sanno come appassionarsi e magari anche grazie a questo appassionare gli altri, perché leggere qualsiasi cosa è sempre la chiave giusta per vivere l'attualità in nostro mondo. Il 25 novembre alle 20.30 al Teatro Guerrieri di Matera il concerto di Gianni Schicchi. In scena ci saranno le opere di Giacomo Puccini. È tutto pronto a Matera per la rappresentazione di Gianni Schicchi, il capolavoro di Giacomo Puccini, il cui allestimento è curato dall'Associazione Lucania Arte Teatro con la partecipazione della Fondazione Giacomo Puccini di Lucca. In corso le ultime prove dello spettacolo, che sarà portato in scena venerdì 25 novembre alle ore 20.30 al Cine Teatro Guerrieri di Matera. Di particolare rilievo il cast di cantanti, David Cecconi, Cristina Melis, Matteo Macchioni, Angelica Di Santo, Erika Liuzzi, ai quali si aggiungono altri artisti locali che stanno maturando una esperienza artistica di primissimo livello. Le parole di Enzo Di Matteo, baritono di Charafama, che nell'occasione curerà la regia di Gianni Schicchi. Lo spettacolo è molto interessante perché le scene sono dello scenografo del Perusia di Bari. Il cast dei cantanti, il cast dei cantanti è veramente di primo ordine, perché sono cantanti che hanno cantato in enti lirici, hanno cantato alla scala e a loro ci sono naturalmente alcuni ragazzi del nostro territorio talenti che sinergicamente con loro crescono e quindi imparano che cosa significa essere in palcoscenico. A dirigere l'orchestra di Matera e della Basilicata sarà il maestro Angelo Gabrielli. Credo che sia una delle opere più belle che siano state fatte nel verismo, perché abbiamo un toscano doc che ci ha fatto il regalo di venire con noi a proteggere e dare spinta a questi ragazzi del maestro Di Matteo che me li ha fatti trovare bravissimi e preparatissimi per una città che voleva vedere e che non aveva conosciuto. Io la conosco e tutte le volte che mi invitano vengo molto volentieri. Ho fatto un master in una cava, museo, teatro, con 15 stupendi ragazzi di Matero o vicino, allievi sempre del maestro Di Matteo, che stanno vincendo concorsi. Il maestro Pompeo mi ha fatto trovare un'orchestra preparatissima, e quindi io che sono un debuttante di quest'opera non posso dire altro grazie a tutti gli amici che mi permettono di venire qua. Non resta dunque che attendere l'apertura del Sipario, venerdì 25 ore 20 e 30, per godere di questo capolavoro. Biglietti ancora disponibili presso il Teatro Guerrieri. E torna anche il Matera Sport Film Festival. Sport, cultura e ospiti illustri si alterneranno durante la dodicesima edizione e che prenderà il via domani. Manca poco allo start ufficiale della dodicesima edizione del Matera Sport Film Festival in programma dal 25 al 27 novembre presso il Cinema Il Piccolo e il Cineteatro Comunale Guerrieri di Matera. La rassegna sportiva, dove sport e cultura, come da tradizione consolidata, non è solo cinema ma anche presentazione di libri, spettacoli teatrali e incontri con gli autori, non mancheranno anche per questa edizione ospiti illustri, cerimonia d'apertura prevista venerdì 25 novembre alle ore 20 e 30 presso il Cinema Il Piccolo, con la proiezione del film Las Leonas, prodotto da Nanni Moretti. Sabato 26 novembre alle 17, l'Open Space Basilicata del Palazzo dell'Annunziata Matera ospiterà la cerimonia di consegna del premio giornalistico Nino Grilli, giunto alla terza edizione, intitolato al compianto giornalista materano. Il riconoscimento sarà conferito a Francesco Ceniti, giornalista della Gazzetta dello Sport. In serata, alle 21 e 30, si proseguirà con il teatro, grazie al divertente spettacolo teatrale Cazzimma e Araggia. Domenica 27, infine, cerimonia di premiazione alle ore 19 e 30, alla presenza degli ospiti illustri e dei protagonisti della Kermess. A seguire, due proiezioni speciali, il settimo giocatore di Vito Cea e Sergio Palomba, un documentario che rievoca le notti magiche della PVF Matera. E 9 giugno 1979, Una città nel pallone di Sandro Veglia, il documentario della storica promozione del Matera in Serie B nella stagione 1978-79, raccontata dai protagonisti. E la nostra informazione termina qui, vi ringraziamo per averci seguito.